Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio! Che hai guidato la beata Paola Gambara Costa, sulla via della santità per mezzo dell'imitazione di Cristo crocifisso. Fa che, per sua intercessione e con il suo esempio, sopportiamo serenamente le tribolazioni della vita. E che nell'ora della nostra morte, siamo consolati dalla speranza che viene dalla croce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Beata Paola Gambara Costa. Pregate per noi.